Nell'ultimo anno si è parlato tantissimo di lavoro a distanza e apprendimento a distanza. Per questa ragione oggi ne voglio parlare a partire da un articolo che ho letto in occasione di un incontro che ho fatto con l'Ordine degli Psicologi della Lombardia con cui collaboro spesso, quindi per la Casa della Psicologia, un articolo scritto da Giuseppe Riva con le ricercatrici Brenda Widerhold e Fabrizia Mantovani. Loro partono da tre pilastri che sono fondamentali nelle esperienze che viviamo in ufficio e a scuola. L'apprendimento e il lavoro avvengono in un posto dedicato, quindi in un luogo fisico. L'apprendimento e il lavoro avvengono sotto la supervisione di un insegnante o di una persona, insomma, che sta a capo di un team e dell'organizzazione lavorativa. L'apprendimento e il lavoro sono svolti in gruppo. Riguardo al luogo è interessantissimo quello che dicono, perché si rifanno allo studio dei coniugi Moser che hanno vinto il premio Nobel del 2014 sui cosiddetti neuroni GPS. I cosiddetti neuroni GPS sono quelli che ci danno l'idea che ci troviamo in un luogo e che questo luogo è delimitato, cioè questo luogo in qualche modo ha dei confini, è chiuso in un certo senso, finisce a un certo punto. E questo in qualche modo codifica il nostro comportamento, ci porta a comportarci in un certo modo o in un altro e ci spinge anche ad agire in una certa direzione. Quello che ci dicono le ricerche delle neuroscienze è forse qualcosa che abbiamo sempre intuito ma che è confermata scientificamente, cioè che il luogo influisce sulle nostre esperienze e in particolare costituisce una base essenziale per l'immaginazione e la memoria. Cioè noi ci ricordiamo qualcosa, quindi anche relativo all'apprendimento e al lavoro, nella misura in cui ci ricordiamo anche il luogo in cui è avvenuta. Il luogo scatena e favorisce immaginazione e memoria e favorisce anche la nostra identità personale perché siamo lavoratori o lavoratrici, perché ci richiamo tutti i giorni in un certo ufficio, siamo studenti, studentesse, perché ci richiamo tutti i giorni in una certa scuola. Questo ci dà la misura di quello che stiamo effettivamente facendo, ce lo fa ricordare, ci fa sentire che stiamo facendo qualcosa, ci fa sentire davvero fino in fondo lavoratori, lavoratrici, studenti e studentesse. A differenza di questo però Zoom e tutti gli altri sistemi non sono luoghi, non li percepiamo come luoghi e quindi non si attiva quel legame tra le esperienze, la memoria e l'immaginazione che si attiva quando siamo effettivamente in un posto. Questo senso di placeness, cioè questo senso di essere senza luogo, questa mancanza della placeness, cioè del senso del luogo, è quello che ci dà spesso un senso di insoddisfazione e di vuoto al termine della giornata. Quindi abbiamo fatto tantissime cose, ma è come se non avessimo veramente, non avessimo fino in fondo fatto esperienza. E questo ci dà anche la sensazione che tutti gli incontri siano uguali, che non ci sia una grande differenza. Quella sensazione che si prova se si hanno magari in fila 5, 6, 7, 8 video riunioni tutti i giorni, ed è come se fossero una somma di riunioni e non tante esperienze diverse, con tante persone diverse. E quindi da un lato abbiamo la sensazione di dover fare più cose per avere il senso che stiamo facendo qualcosa, che in qualche modo stiamo andando avanti, però in sostanza abbiamo la sensazione che non stiamo andando da nessuna parte. Quello che le neuroscienze ci confermano oggi è che l'identità personale non si forma solo nelle relazioni tra le persone, ma si forma anche con i luoghi. Tutto questo diventa particolarmente rilevante oggi, perché l'impossibilità di legare la nostra attività quotidiana a un luogo fisico ci rende veramente difficile e faticoso andare avanti nella nostra attività a distanza. E quindi ha un impatto sulla nostra identità personale, perché è come se ci sentissimo un po' meno studenti, un po' meno lavoratori e lavoratrici. Che poi è anche la ragione per cui diventa più difficile, stando a casa e stando in famiglia, a far capire alle altre persone con cui viviamo che nel momento in cui stiamo facendo una video call siamo qualcos'altro. E qui la cosa interessante è che la ragione per cui molte persone sono andate in burnout nell'ultimo anno dipende anche dal fatto che si sono sentite e hanno vissuto meno con la sensazione di essere lavoratori, lavoratrici, studenti e studentesse. Quindi questo ha avuto un effetto sull'identità personale, che a sua volta ha avuto un effetto sulla salute mentale. Andiamo ai neuroni specchio, che sono neuroni bimodali, cioè che si attivano rispetto a sollecitazioni che hanno a che fare con più modalità sensoriali. E si attivano sia che noi stiamo facendo qualcosa, sia che stiamo osservando un'altra persona che sta facendo quella cosa. In videoconferenza si vedono solo i volti, quindi non vediamo effettivamente tutte delle altre sollecitazioni che vediamo normalmente. Quando abbiamo un contatto visivo prolungato con le persone, quindi per esempio siamo in un teatro pieno di persone, e abbiamo un contatto prolungato con queste persone, si attiva in noi che stiamo parlando il cortisolo, l'ormone dello stress. Questa cosa in videoconferenza non c'è e questo può essere un problema, e ve lo dico in prima persona, nel senso che quando ti ritrovi di fronte semplicemente a una telecamera, devi fare qualcosa che faresti invece dal vivo con l'adrenalina, beh, può essere molto più complicato. Quello che invece succede quando facciamo la videoconferenza è che ci sentiamo osservati, e questo attiva la rete di autoattenzione e ci distrae anche da quello che stiamo ascoltando, quindi c'è una parte di noi che ha paura di quello che l'altra persona può vedere, proprio perché il volto viene controllato, o addirittura può accadere che cerchiamo per questa ragione di spegnere la videocamera, oppure per ragioni di connessione dobbiamo spegnere la videocamera, e questo rende tutto ancora più complicato, perché ci distraiamo di più, o nel caso in cui fossimo lo speaker e la speaker, questo ci impedirebbe di vedere con chi stiamo parlando, e questa è una situazione in cui mi sono trovata molto spesso nell'ultimo anno, cioè mi sono trovata a parlare anche davanti a centinaia di persone, ma non guardandole, perché avevano tutte il microfono spento, la telecamera spenta, era estremamente difficile per me capire, condurre un discorso, cercando anche di capire che cosa stesse succedendo in tempo reale alle persone. Questa percezione intuitiva, queste sensazioni che arrivano anche irrazionalmente, che ti fanno sentire che le persone si stanno annoiando, che delle persone sono infastidite, oppure che sono molto contente, sono delle sensazioni che derivano dalle spindle cells, che sono un processo, che hanno a che fare con un processo letteralmente fisico. E qui veniamo ad un aspetto interessantissimo, che ha a che fare con le oscillazioni neuronali, che sono degli schemi ritmici di attività neurale, che consentono l'attività coordinata del cervello. Ecco, queste oscillazioni sono influenzate anche dalle dinamiche sociali. In particolare, c'è una sincronia che avviene quando si lavora nello stesso posto, quando si studia nello stesso posto, che ha a che fare col fatto che i cervelli, in qualche modo, mettiamola così, si sincronizzano. Quindi non solo i comportamenti si sincronizzano, in qualche modo ci sono delle regole, dei regolamenti, delle abitudini che si sviluppano insieme, ma anche le oscillazioni neuronali cominciano a essere sincronizzate tra le persone che passano molto tempo insieme a fare appunto, a lavorare o studiare insieme. Queste oscillazioni neuronali sincronizzate sono quelle che portano le persone anche a muoversi insieme, senza rendersene conto, molto spesso inconsapevolmente. In videoconferenza lo sviluppo dell'attenzione congiunta è molto più difficile, che è la ragione per cui è molto più facile che si sviluppino equivoci, che non ci si capisca, che in qualche modo non si senta il flusso, loro lo chiamano networked flow, cioè un flusso che ha a che fare con la rete appunto che si crea tra le persone, quindi un flusso condiviso in qualche modo. Quindi quello che possiamo dedurre è che semplicemente spostare l'ufficio, la scuola online in questo modo non è sufficiente. Abbiamo bisogno di altro, abbiamo bisogno di altro per ricordarci, per avere memoria autobiografica, per sentire di essere le persone che stanno facendo quella cosa, per avere una relazione con le altre persone, per percepire empatia, intuizione, per avere un'attenzione congiunta. Quindi non è una colpa non riuscire a farlo con questi strumenti e non è neanche detto appunto che dobbiamo fermarci qui. Quello che però può essere utile è capire che cosa avviene per esempio nelle comunità di pratica. Secondo un gruppo di ricerca coordinato da Wenger, infatti le comunità di pratica, per esempio quelle che giocano a Fortnite o altri videogiochi, sono delle comunità che invece riescono a sollicitare certe parti. Perché quindi, ce l'aveva detto Erratoni in un'intervista di qualche mese fa, i videogiochi hanno salvato da un impatto forte a livello psicologico tantissime ragazze e ragazzi, soprattutto qualche mese fa, e sono stati più efficaci rispetto all'apprendimento a distanza. Quindi perché le stesse persone si annoiavano nell'apprendimento a distanza e invece potevano passare tantissimo tempo ai videogiochi? Non perché i videogiochi sono un intrattenimento e l'apprendimento è una cosa noiosa, ma perché quello che accade per esempio nella realtà virtuale o in Fortnite, e soprattutto in tutto quello che è legato, in tutte le pratiche legate al gioco, è molto più efficace a livello neuronale, è molto più efficace per il nostro cervello, lo riconosciamo molto di più come un luogo e riconosciamo molto di più la comunità. Ci sono due elementi in cui qualcosa di più succede rispetto alle videoconferenze, che sono appunto la realtà virtuale, quindi quella con i visori, con i VR, che hanno a che fare proprio con la percezione che noi abbiamo dello spazio, che è molto diversa rispetto a quella della videoconferenza, e tutte le comunità di pratica che hanno a che fare, per esempio di Fortnite o di altri videogiochi, che hanno a che fare con dei gruppi che riescono ad avere delle pratiche, riescono ad avere un senso del gruppo, e riescono a raggiungere un'esperienza collettiva ottimale. Quindi non si tratta di una conclusione, non è un percorso che abbiamo ancora concluso, perché appunto abbiamo appena iniziato a sperimentare come si può creare comunità, come si può lavorare e studiare attraverso la mediazione della tecnologia. Abbiamo delle domande, secondo me è importante che queste domande riusciamo a farcele e che queste domande diventino poi un potenziale di innovazione per creare delle esperienze che siano delle esperienze autentiche.